Questo è in Via Italia, attualmente è conosciuto come Parco Emilio De Marchi. In realtà si tratta di una parte di quello che era il giardino della Villa Rombelli. È un giardino che risale al 700 e ha tuttora delle caratteristiche originarie di quel giardino che si possono apprezzare poco, dal 1987 è stato definito giardino monumentale dagli ispettori della soprintendenza dei beni architettonici ambientali di Milano. Dal 1989 è stato affittato dal Comune della Villa della Villa e quindi preso disponibile alla cittadinanza, ma è tuttora di fatto di proprietà privata. Grazie a tutti.